Spasmodica di fuga, di uscita a tutti i costi, tutto comprensibile, meno se si pensasse anche per un attimo che uscire di casa adesso vorrebbe dire ricadere nel baratro senza speranza di risollevarsi. Il crucio di chi ha senso civico è continuare a non capire come faccia la gente a non comprendere la gravità del momento. Vi sembra normale che con tutti i problemi di cui l'Italia, il mondo è travolto, le forze dell'ordine in campo senza pregua debbano essere costretti a situazioni di vero disagio per controllare in maniera quasi esosperata i caselli autostradali, le arterie dell'entroterra, per tenere d'occhio i cretini che vorrebbero trascorrere Pasqua e Pasquetta al mare o in montagna. Qualcuno ha parlato di ritorno alla normalità, e ciò è cosa impensabile a breve tempo. Ma non pensa certa gente che infettare o essere infettata significa finire in un ospedale con il rischio di non uscirne più. Ma cosa hanno in testa questi componenti il nuovo esercito dei fessi dei delinquenti? Impegniamoci tutti nell'avere più pazienza e forse tutto andrà con gradualità meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.